Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, dolce cuore di Gesù, dolce cuore di Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, dolce cuore di Gesù, dolce cuore di Gesù, dolce cuore di Gesù, dolce cuore di Gesù. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Adesso è l'ora della nostra morte. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porto il cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose salvole a noi. Grazie a tutti. 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 Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Grazie a tutti. 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 Massimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Assunzione di Maria al Cielo, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amene. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amene. E la benedizione di Dio Onnipotente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.